Alessandro Meraviglia, piacere, Contrada 2017, sono entrato in Contrada perché? Perché mi sono sentito subito a casa, è una grandissima famiglia, mi trovo benissimo con tutti i Contradaioli. San Magno perché sono stato indotto da amici e dal momento in cui sono entrato ho subito capito che c'era uno spirito diverso rispetto a quello che vedevo all'esterno. Io sono Davide Amarzullo, sono in Contrada dal 2022, quindi un anno. Mi hanno integrato qui dentro perché dieci anni fa ho fatto San Magno che era un evento dove promulggeva gli alunni del Falcone di Gallarate, in questo caso dove io andavo a scuola. La cosa più bella secondo me di San Magno è che sei totalmente libero a prescindere dai centri sociali o da dove arrivi, di conseguenza sono Davide e sto bene qui dentro all'interno di un gruppo che ad oggi è magnifico e ricco di emozioni. Sono Simone Schimmenti, sono Elio Ferro e io Mottogallo. Vengo incontrato da tre anni. Io vengo incontrato da quando ho otto anni, da quando ero piccolino alle elementari e mia mamma incontrava qui. Io ho otto anni. Il ricordo più bello è la pittoria del palio, primo anno e subito che c'era un palio è stato in mezzo di palio. Il mio ricordo più bello è stato quando ho affeso il mio fulare, quello del mio socio Davide come è lì, il cerimoniere, al centro del campo e quando ho visto tutti i ragazzi correreci incontro e questa è già una vittoria del palio. Per me è tanti ricordi belli, difficile scegliere ma il primo maggio quando inizi questo mese così intenso e ti trovi qua alle sette del mattino e nonostante sei stanchi inizi subito lavorare è meraviglioso. Noi ci auguriamo di poter vivere tante belle emozioni che si vivono sempre in questi ambienti e di portare su altri ragazzi per poter ringiovanire la contrada e poter dare un seguito a quella che è la storia del palio e la storia di San Marino.